Una carrellata di dolcezze molto più che una semplice passeggiata per cittadini e visitatori avvolti dal profumo di cioccolato puro sul lungomare Trieste di Salerno. Cioccolato dalle varie forme e dal gusto sublime per esaltare i cinque sensi anche per questo weekend della festa del cioccolato. Chocolate Days, l'evento organizzato dalla Clai di Salerno in collaborazione con Tanagro Legno Idea e patrocinato dal comune di Salerno e dalla Camera di Commercio. Un percorso coinvolgente che sta richiamando l'attenzione di grandi e piccoli incuriositi dalla novità di quest'anno della ciocofabbrica, la fabbrica del cioccolato con il maestro perugino Fausto Ercolani con il racconto di tutte le fasi lavorative del cacao dalla raccolta alla trasformazione delle fave. Una bella iniziativa per il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che portando un saluto di benvenuto ai maestri cioccolatieri non ha mancato di assaggiare le eccellenze di tutta Italia. Credo che sia una bella iniziativa per Salerno, da golosso militante ho fatto un giro tra gli stand e ho assaggiato delle eccellenze eccezionali. Vengono da tutta Italia, dimostrano la loro capacità artigianale e credo che anche questa sia un'azione che in qualche modo porta Salerno alla ribalta dell'attenzione nazionale. Spero che iniziative come queste servano al rilancio e al lancio del nostro marketing territoriale, alla nostra S di Vignelli, insomma alla nostra possibilità concreta di essere città turistica. Un'occasione importante per la città di Salerno, i maestri cioccolatieri dicevamo arrivano un po' da tutta Italia, un momento importante per i bambini che per la prima volta per tanti di loro hanno visto come è fatta una fava. Infatti, ma io stesso non conoscevo il frutto del cacao, ho avuto un atteggiamento stuporoso vedendo questo strano frutto della natura dal quale poi escono mi dicevano 15-30 fave di cacao e con un processo complesso che ci ha raccontato il maestro cioccolatiere e diviene poi la cioccolata che noi gustiamo. Interessante non solo per i bambini quanto anche per gli adulti assistere alla produzione del cioccolato nella fabbrica laboratorio. Un'esperienza stimolante anche per divulgare la conoscenza dei prodotti artigianali, per dimostrare, come hanno dichiarato l'assessore comunale all'istruzione Eva Vossa e al commercio Dario Loffredo, perché il cioccolato artigianale costa di più. È davvero interessantissimo poi vedere appunto dalla fava fino al prodotto finito e tutto il processo non è cosa di tutti i giorni, quindi io so che i bambini sono rimasti estasiati, contentissimi, ho saputo che hanno preso anche appunti addirittura, quindi è stata sicuramente una bella esperienza, interessante, rimarrà sicuro, come dire, importante anche per un discorso di corretta alimentazione, perché si è fatto anche un discorso appunto per dire a questi bambini che è un prodotto sano, preferiamo sicuramente i prodotti artigianali, questo sì, bisogna mangiare il cioccolato, perché il cioccolato fa bene, magari con moderazione, ma bisogna anche saper scegliere cosa mangiare. Seguire questo percorso con la collega Vossa e con il sindaco e con tante persone, un ciclo produttivo dalla fava e di come si produce, come è fatto il cioccolato, è veramente un'emozione unica, poi io doppiamente sia da assessore e da salernitano, ma devo dire in una terza veste di coloso e quindi spero che questo weekend, ma ne sono certo, stasera fino a mezzanotte, poi sabato e domenica, ci sarà veramente il pienone e tanti saranno attratti, non solo dalla città di Salerno, ma tutta la provincia, a venire qui e passare una bella giornata tra degustazione, shopping tra le nostre attività commerciali e altre attività, tutto per il nostro territorio. Grazie agli stand aperti tutti i giorni, dalle ore 10 alle 24 si potranno degustare ed acquistare cioccolatini di tutti i tipi, tra le prelibatezze di quest'anno anche la tentazione napoletana della sfoglia campanella, il dolce ideato da Vincenzo Ferrieri, una sfogliata riccia con all'interno un fuso di cioccolato, ricotta raffinata e un piccolo babà.